Dragon, Dragon, Dragon Ball Dragon, Dragon, Dragon Ball Chi sei? Gakun non lo sai Però, presto lo scoprirai E poi, tu scomparirai Una nuova realtà, con le sue verità Scaverai nel tuo passato E guardando più là, il tuo cuore saprà Ritrovare Dragon Ball Guardi su testi, Dragon Ball Vabbè, dacci Ok Ciao a tutti ragazzi E benvenuti in questo nuovo unboxing Oggi, faremo l'unboxing di Dragon Ball Z Questi giocattoli sono una linea fungo Funko Vabbè, fango Come vuoi tu Ma a me piace il mango Ha detto fango Non mango E li trovate nel negozio a presto di 29,88 euro Iniziamo ad aprire questa scatola di Dragon Ball Z Camera man Ok, leggiamo Allora Ecco fatto Vediamo un po' cosa abbiamo trovato Allora Allora, vediamo un po' cosa abbiamo trovato Abbiamo trovato un porta chiavi di Majin 1 Uno qua è uno trasparente Poi abbiamo trovato Il top di Freezer Più questo Questo fungo di Mega Freezer E in più Questa piccola Questo piccolo Questa piccola Funko di Cell Questi qua li apriamo dopo Iniziamo ora al porta chiavi Allora Come diceva Zait Questi sono dei porta chiavi Vabbè Zait Hai fatto un errore Ci sono delle spille Le dite Però questo è trasparente È vero Trasparentissimo Ascoltiamo che memore fanno Ma sono di vetro E sono bellissimi Sto che sono di vetro E adesso abbiamo La top Aspetta Ma qui c'è un errore C'è scritto Made in China Ma non è affatto divertente C'è scritto Made in China Made in China Fallo vedere più da vicino Come diceva Zait Questo Qui c'è scritto Made in China Lo potete utilizzare Grazie al tapa Pugli Sui vestiti Questo Questo qua Mi sembra una H Attorcigliata Eh già L'H La potevamo fare Un pochino più e meglio Anzi Sono due F C'è scritto For Freezer Force È arrivato il momento Di aprire Le fungo Ma è un portachiavi Hai ragione Zait È proprio un portachiavi Però è spalzato fuori Dalla scatola Senza Senza Tirare Questo Vabbè Lasciamo stare È arrivato il momento Di aprire Quest'enorme Funko Di Mega Freezer Ecco qua Ha un limone Al suo interno Non è Non è il limone È il 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 E l'onda Energetica La Luce Energetica L'onda Energetica Oh Possiamo fargli fare Un sacco di cose Possiamo farlo stare a testa in giù Possiamo fargli fare Possiamo fargli fare Le F Possiamo fargli fare Non lo so Possiamo fargli fare La cabriola Vabbè Lomba basta con le tue testoste e chiudiamo il video Ok Poi sinceramente potevano fare di meglio per fare solo queste quattro cosine Vabbè basta così Bene ragazzi il video finisce qui Mi raccomando fateci sapere se questi Funko vi sono piaciuti o Funko Se questi Funko vi sono piaciuti iscrivetevi al nostro canale di Youtube Lasciate un link per questo unboxing di Dragon Ball Z E noi ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi Bye bye Si dice ciao ciao Ciao